appassionati di musical visione e ascolto ben ritrovati e ben ritrovati con tiziano edini intanto che ringrazio di essere venuto come vedete ancora vestito da performer e ha avuto la pazienza a fine di faticosissime prove di venire anche a raggiungerci e questo ti ringraziamo molto allora tu sei Adam in questo An American in Paris che Adam secondo me comunque è il personaggio fantasma di Gershwin sì diciamo nella versione cinematografica era proprio molto più fisica nel musical oddio anche nel film in realtà perché c'ha tutti i monologhi iniziali Oscar Levant un grandissimo musicista tra l'altro amico proprio conobbe appena dopo la scrittura di An American in Paris l'opera conobbe Gershwin e ci lavorò fino agli anni 50 vabbè grandissimo musicista è tutto e tra l'altro grandissimo attore perché quella parte è comicissima tra l'altro lui ha inventato in quel ruolo ha dato pare che lui fosse molto caustico fosse una persona con un grande senso di nuovo riso era proprio musicista sì sì era scapigliato quindi anche il musical americano e poi alla fine anche la tua figura è un po' modellata sul suo Oscar Levant e beh assolutamente sì perché comunque lui ha tra l'altro le gag se non sbaglio le gag dell'accendino quando si accende il cucchiaino la scena per distrarre due del film assolutamente di Levant sempre penso proprio che ci giocasse proprio lui ma è una cosa che si fa comunque in teatro quando vuoi creare una gag il tempo comico lo devi creare anche noi abbiamo cercato di non rifarci proprio al film ma cercare una chiave mia io soprattutto una chiave mia per renderla molto più vera tra l'altro nel film diciamo che lui è l'unico che sa che gli altri due sono innamorati della stessa donna qui invece nel musical lui partecipa alla competizione in realtà se vogliamo lui diciamo partecipa più come se lei fosse una muse in realtà perché comunque lui le dà la possibilità a lui di scrivere quest'ultimo balletto ricordiamo che qui Lisa è una ballerina assolutamente si occupava solo di profumeria nel film invece qui è diventata una ballerina dello Chatelec è già passato ovviamente no no però nel senso Marta è una gran ballerina quindi lavora in punta e tutto quindi certo assolutamente da vedere e oddio la domanda qual era? no ma in realtà non era una domanda era il tuo personaggio ah era il mio personaggio che nasce nel film più comico qui forse qui porta i segni della guerra addirittura qui ecco la differenza piccola piccola in senso grande dal punto di vista storico che lui è un ferito di guerra anche perché siamo più vicini alla finanza non è nemmeno finita alla liberazione è 44 è lì c'è ancora la guerra addirittura cioè a Parigi non più a Berlino ancora devono dipendere da dove la prendi o scendere per salvare la faccia oppure andare verso Berlino ecco nel senso Adam è comunque molto comico perché è comunque un personaggio comico diciamo che entra ed esce dalla tela visto che siamo in tema entra ed esce dalla tela nel senso che è il narratore entra partecipa alle scene dal punto di vista fisico quindi è una persona reale vera e propria quindi interagisce con Gerry ed Henry Borel e poi riesce, fa i suoi monologhetti parla con il pubblico perché proprio parla a favore del pubblico consegna al direttore dell'orchestra addirittura la partitura di American Impair io speravo di battere un 4 al Carlo Felice e invece niente mannaggia ci ho provato, il regista mi aveva detto ti stanno vai in buca e dai l'ok quello era da fare un video, mandare a mia madre e dire mamma ho diretto l'orchestra al Felice il mio amico Daniel Smith in queste cose non mola la bacchetta in nessun modo mai, anzi tra l'altro Daniel Smith è assolutamente grandissimo professionista e direttore d'orchestra tra l'altro molto simpatico si presta anche a una gag interessante che non sveliamo perché dovete venire a teatro guardo là o qui ma dovunque quello che vedono da casa venite a teatro così vedete anche le gag del maestro Smith che dire, come ti dicevo, entra e esce la latela rimane comunque un personaggio non fuori dalle righe perché comunque è sempre vero è molto vero e terreno in questo caso, mentre nel film il narratore era ovviamente Gene Kelly che era l'ancoccurio qui la voce davanti è proprio quella di Adam è proprio di Adam sì, Adam è un ruolo strepitoso infatti Federico quando mi chiese Tiziano ho messato a te come Adam io non ho visto il musical a Londra né a Broadway ma ho visto la versione cinematografica che arrivò in Italia al 15 e 16 di marzo sì, una ripresa tra l'altro finì l'audizione di Corus Line a Milano e andai subito al cinema per vedere quel ruolo tra l'altro c'eravamo al cinema quella sera io e Giuseppe Verzicco lui stava andando a vedersi il suo no, perché io e lui eravamo un po' curiosi eravamo con le nostre fidanzate e abbiamo detto vabbè, andiamo a vedere questo film e allo stesso cinema perché eravamo lì vicino in zona al teatro siamo andati a vedere il film e quindi abbiamo visto la versione di Fairchild che faceva Jerry Mulligan e strepitoso ovviamente io mi sono innamorato del ruolo di Adam perché diciamo un po' mi rassomiglia musicista sempre la battuta pronta e quindi diciamo un po' ti devi avvicinare anche al ruolo poi ovviamente ho lavorato tanto per arrivare a una verità più interessante poi hai costruito il tuo Adam ho costruito il mio Adam sì, perché è molto difficile per un attore entrare ed uscire da una propria persona da una propria comicità io sono comico di mio alcune volte anche non me ne rendo conto però bisogna cercare di discostarsi anche per divertirsi anche perché il pubblico si diverte se vede che vi state divertendo anche voi passi per contagio infatti la scena del bar noi tre ci divertiamo un sacco infatti alcune volte partono le risate e tutto perché giustamente non puoi farne a meno però il tempo comico va assolutamente serrato anche perché qui c'è un metronomo sotto c'è Daniel Smith voglio dire c'è un'ochesta sinfonica per giunta sono cento elementi dell'orchestra c'è un sacco di persone tra l'altro ringraziamo il Felice perché questa coproduzione è spettacolare sì, è abbastanza una rarità effettivamente che lo dicevamo anche prima con chi ti ha preceduto i teatri Broadway ma anche quelli del West End di solito hanno un palco molto piccolo sono estremamente raccolti in orchestra ci sono 12-15 persone 12-15 persone con i sintetizzatori certo, e comunque qui c'è un'orchestra sinfonica con tutti gli elementi e le percussioni qui non c'è sequenze non c'è cori registrati abbiamo il coro verso sotto gli archi sono autentici sono veri, autentici quando iniziano le violine oddio sì, sì, si sente beh, logicamente voi siete amplificati chiaramente perché sennò non poteste battervi e cantare contro no, contro di loro perdiamo contro quei ma infatti c'è sempre una diatriba ovviamente ma anche nel musical c'è sempre comunque una diatriba tra attore in scena microfonate e musicisti perché loro quando picchiano picchiano e noi la daie che dobbiamo spingere però ci sono i tromboni ci sono la gente che da solo in basso tutto tuba fanno un gran rumore questi contrabassi qua meravigliosi no, no, però ecco però questa è una cosa vera quando si è a teatro l'impatto di uno spettacolo dal vivo in questa ormai siamo in una generazione che sente quasi tutti in cuffietta bravo io lo dico a tutti venite a teatro e sentite l'aria che si sposta sai una cosa interessante scusami se ti interrompo una cosa interessantissima è durante i dialoghi una cosa che apprezzo un sacco noi abbiamo degli underscore che devono restare sopra cosa fa il fonico? toglie l'audio e lascia semplicemente in acustico per avere un sottofondo certo perché e lì quando reciti senti il pianoforte acustico o i violini che fanno l'underscore e tu sei lì che stai recitando e dici è un'altra cosa non è una situazione che sarebbe irreale quella del silenzio totale no è una cosa bellissima perché comunque l'underscore ce l'abbiamo a teatro ma comunque è sempre un po' più digitale capito? cioè digitale nel senso è più compresso perché sono tutti là li sai che sono lì sotto invece hai il pianista che era sotto vedi il violino che sta facendo la sua tirata sei lì e stai dicendo la battuta e dici wow capito? è quello che percepirà quasi sicuramente il pubblico assolutamente poi il teatro è pazzesco di che cosa stiamo parlando abbiamo di duemila posti a sedere duemila posti a sedere però di un'ottima acustica effettivamente adatta è una cosa acustica polivalente nel senso che va bene per alcune cose compreso con West High Story abbiamo abbiamo esordito tu eri in West High Story io lo facevo Big Deal ero uno degli americani di Jets uno della della del compricolo americano anche lì e c'era Riff a capo c'era Riff che era Giuseppe Verzicco ma tra l'altro Giuseppe Verzicco io ci siamo conosciuti lui in accademia a 19 anni quindi si è un mio collega di MTS abbiamo fatto le MTS insieme siamo cresciuti poi ci siamo divisi per un po' e adesso ci siamo ritrovati beh bello questa cosa qua comunque mi piace anche perché ripeto qui siamo in una fondazione lirico-sinfonica al Carlo Felice però dall'anno scorso da qualche anno sta a pre beh da prima ancora abbiamo avuto Cats poi abbiamo adesso quest'anno Ben Tre Music perché c'è anche la ripresa di West e poi c'è Sunset Boulevard che è arrivato a aprile no marzo è l'ultimo dei tre che facciamo però tra l'altro un gioiellino mamma mia l'ho visto a lungo sì stiamo parlando di Lloyd Webber non proprio dell'ultima arrivata vabbè io in mente la Glenn Close alla Norma Desmond niente insomma però qui c'è George Gershwin non è che pizza e fichi sai quando entri in un discorso e pensi a quello scusami però qui comunque è sempre uno dei più grandi musicisti del mondo giusto uno sì sì pensa in quel periodo c'era lui Colport e Irving Burling cioè tra l'altro mi fa sempre ridere questa cosa di Burling perché lui essendo ebreo ha scritto la canzone più bella del Natale cioè a me fa questa cosa farei che la più gettonata nel senso come l'avevano in bar di Irving Burling White Christmas basterebbe la SIAE di White Christmas per stare a posto tutta lì fra l'altro contrariamente al povero Gershwin che è campato 39 anni Irving Burling è morto a 101 anni quindi proprio se l'è goduta e ha scritto anche qualche altra cosetta tipo God Bless America che non so oppure Chick to Chick insomma del rivale quello era con te Fredasteri il rivale di Ginger tra l'altro vabbè poi la diatriba anche Ginchelli sì Ginchelli Fredasteri ma quella era Metro Goldwyn Mayer e la RKO esatto questo era MGM erano i produttori erano i produttori cosa è Minnelli regista Minnelli Vincent Minnelli papà di Lisa Liza Minnelli tra l'altro Liza ma chi lo sa può darsi anche la vera perché dunque è del no era prima sì no no il film il musico del cinquanta girato nel cinquanta nel cinquantuno cinquantuno è uscito l'anno girato l'anno prima Liza Minnelli è del quaranta quindi c'era già quindi lui nel momento sì sì ebbè ma è comunque la moglie era giù di Garland voglio dire sono a casa una famiglia lievemente musicale vabbè stiamo parlando un po' dei più grandi quando tocchiamo quel periodo storico noi ti ringraziamo tantissimo grazie a voi e a Carlo Felice e niente prima però di lasciarci c'è una cerimonia qua a cui ti sottoponiamo c'è una firma sì dove c'è sotto una cambiale no no quella abbiamo non esattiva più no sì effettivamente vuole cambiare ormai c'è stata detto col digitale beh col digitale è peggio questo è certamente una punta grossa va benissimo parlo qua sopra sull'A di Adam è di Adam giusto aspetta ti potevo anche tenere il microfono in realtà eccolo qua perfetto senti a lei la chiusura grazie mille e in bocca al lupo Crepi grazie a voi e venite a teatro questo soprattutto